Ciao ragazzi, sono tornato e sono qui pronto per cominciare il quindicesimo video. Ormai siamo gli sgoccioli, quindi partiamo. Il presente sembra la meta inevitabile di ogni passo compiuto per raggiungerlo. E al tempo stesso, vedi un'altra via aprirsi davanti a te, quella che avresti potuto prendere al primo passo. Siamo tutti su questa strada. Le brave persone che lottano per cause sbagliate e i corrotti nascosti dietro maschere di onestà. Ognuno di loro è convinto di essere dalla parte del giusto. Ma ogni viaggio ha una fine e la morte non si inganna in eterno. Contro Atlas avevamo dato tutto e non era bastato. Ne avremmo pagato il prezzo. Attenzione, ogni dettaglio può contare. Che posto è questo? Un ex laboratorio che Irons ha modificato. Un laboratorio? Per ricerche mediche o simili, non importa. Adesso è una prigione. Ci siamo. Sangue freddo o non ne usciamo vivi. Al momento giusto. Tutti giù, scendere! Muovetevi a scendere! Benvenuto in Atlas! Pronti a partire! Apertura gabbia! Questi due, zona C! Nella gabbia! Gli altri dietro la linea rossa! Entrano! Dietro la linea! Quattro scendono a zero! Quattro saliti! Affermativo! Entrate! Muoverci! Si chiude! Libero! Che ci fai qui? Manticore ha spazzato via il supporto aereo. Io ero fuori portata, ma la nostra squadra è stata sterminata. Qualcuno verrà a prenderci? Il centro è contaminato. I nostri non sono più in città. Non verrà nessuno. Forza, andiamo! Uscite! Tutti fuori! Qualcuno verrà il supporto aereo. Presto! Di qua! Vieni qui! Dai, dai! Andiamo! Camminate! Ok, è vuoto. In fila! In fila! Su, di qua! In fila! In fila! In fila! Cos'hai da guardare? Quattro in arrivo! Guardare avanti! Roger! Blocco C! Zu! Guardare avanti! Che cazzo guardate? Andiamoci una mossa! Guardare avanti! Dentro! Isolamento blocco C! Guardare avanti! Che cazzo guardate? Via, via! Guardare avanti! In fila! In fila! Che cazzo guardate? Che cazzo guardate? Al centro! Al centro! Isolamento blocco C! Scendere! Apertura gabbia! Blocco C! Blocco C! Aprire! Mettetegli le manette! Dentro! A posto! Isolamento blocco C! Andiamo! Giù! Ho detto giù! Buona giornata! Ne abbiamo quattro! Questa ce la pagheranno cara! Ne arrivano quattro! A posto! Finalmente conosco l'uomo che aveva l'ordine di uccidermi! Dovevamo solo fermarti! Se ti avessimo ucciso a nessuno sarebbe dispiaciuto! Ad Atlas il fallimento non è contemplato quindi è un peccato che tre dei miei migliori contraenti abbiano fallito così miseramente! Ma è così che deve andare? Separare il grano dalla pula i forti dai deboli? Gli spartani avevano capito l'essenza della guerra! Ma quella verità è stata dimenticata per duemila anni! E tuo figlio Will? Che cos'era? Forte o debole? Will è stato una vittima delle assorde politiche del governo degli Stati Uniti! È morto lottando per una causa! Certo la verità è che morire per una causa non la rende meritevole! Non sei giovane ma sei forte, Cormac! Ci metterai venti minuti a dissanguarti! Abbastanza da riflettere sui tuoi errori! e tu il ritorno del figliol prodigo credevo in te ti avevo dato una seconda occasione! Una seconda occasione! squadra poesia all'infermeria 3 quattro soggetti da rimuovere ripeto squadra poesia all'infermeria 3 quattro soggetti da rimuovere portalo via! Puoi camminare? Fermate Irons! Io non... Sitto! Ce ne andiamo insieme! Ce l'ho io! Seguitemi in silenzio! Arrivo! è della tua misura prendi Exo e arma da fuoco tieni messo così non puoi ricaricare non sprecare colpi e prendi un nuovo kit se resti a secco Pronto? Da qui si va in superficie Ilona di qua Mitchell usa il terminale per aprire la porta presto Armi a terra guardate che sparo Mitchell resta lì buttatele che succede? porte chiuse indietro cazzo tu prova a salire noi ti raggiungiamo Mitchell andiamo adesso è mio Alberto conosco Ilona verrà presto a prenderci facciamola aspettare attacchi con Manticore lancerà dei missili New Baghdad New Baghdad era solo lì Washington New York se conosco Ilona verrà presto a prenderci non facciamola aspettare attacchi con Manticore lancerà dei missili New Baghdad era solo l'inizio Washington New York Los Angeles grandi città meno di due ore al lancio fa un culo sta zitto calmati ilona rispondi cazzo è chiusa prova a elaborazione terminato ecco la visione del futuro di Irons è pazzo dobbiamo fermarlo a tutti i costi toglietevi di mezzo largo mi hai salvato mi hai salvato arma ore 12 arrivano da ovest ce la faremo mitraglietta ore 12 arrivano da ovest contatto ore 12 ore 12 oa quale C'è la faremo! Lancia una flashbang! Contatto! Torre 3! Ce la faremo! Ci sono delle armi! Contatto! Ore 11! Sì! Controlla le punizioni! Meglio sbregarsi! Tutti a terra, cazzo! Calma, io non... Ha detto giù! Oddio! Tu, non muovere un muscolo! Indietro lo sparo! Dai, alla porta! Qua, amici! Ti avvento! Dai indietro! Da dove lancerete, Manticore? Da dove? Dal centro di comando Atlas, in città! Il portello! Andiamo! Dove diavolo siamo? Non mi piace! Cazzo! Dobbiamo andarcene! Guarda! Un condotto! Qui sotto! Aiutami, Mitchell! Spostiamo il carrello! Spostiamo il carrello! Dai! Spingi! Di qua! Presto! Forza, amico! Forza, amico! Cazzo! Mitchell! Preso! Per un soffio! C'è della luce! Siamo quasi! Il comando deve sapere del lancio di Manticore! Gideon! Sono Ilona! Ho preso un mezzo! Vediamoci al muro nord! Perfetto! Arriviamo! Svelti! Corbac è messo male! Di qua! Cazzo! Ci sarà da combattere! L'elicottero! Prendiamolo! Guarda! Guarda! C'è la mia! Prendiamolo! Capri! Ti copro! Vedo la via dentro! Adesso è qua! L'hanno beccato! C'è la mia! Da sud-est! Persaglio ore undi! Contatto ore undi! un atto ore 1 arrivano da ovest contatto e la faremo Uomo a terra! Chiedo a movimento! Contatto! Ore 12! Flashbang! Al riparo! E mortes! Ci attacchiamo da sud-est! Contatto! Ore 10! Uomo a terra! Nemici! Arma ore 12! Granata! Ti copro! Guarda un po'. C'è abbastanza Manticore per colpire tutte le metropoli dell'emisfero. Troviamo Ilona e Cormac. Forza. Pronto? Adesso! Corri! All'elicottero! A tutte le unità! Qui Sentinel 2-1 alla cieca! Rispondete! 2-1 qui, Kingping. Mi davamo per giustarti, soldato. Dentro due ore, Aeros lancerà un attacco biologico su varie metropoli. Ricevuto. Abbiamo la vostra posizione. Unità aeree di supporto in abito. Kingping, mi ricevi! Cazzo! Tenetevi! Alzati! Occhio! Funziona ancora. Passa in manuale. Filota rilevato. Sincronizzazione in manuale. Errore. Drappo sinistro. Ricadibrazione. Putta giù quel muro! Fai strada! Forza! Calibrazioni armamenti. Armamenti online. Surriscaldamento. Attendere. Remici all'interno. Stama di coltivo. Vota sui muri! Grazie! Brazioni armamenti. Toilisi armamenti. Già! Guardate. Placchio! Sincronizzazione in manuale. La nochena è quella che si può fare. Espra! Può bambini! Può bambini! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.